Nonostante l'indebolimento della crescita economica e le prospettive sempre più incerte a causa della guerra in Ucraina, a maggio le imprese italiane hanno in programma oltre 440.000 assunzioni. A delineare questo scenario è il bollettino del sistema informativo Excelsior, realizzato da Union Camere e Anpal. In crescita i servizi, più 30,2% rispetto ad aprile, trainati soprattutto dalla ripresa della filiera turistica, mentre a risentire maggiormente dell'attuale situazione internazionale sono le imprese manifatturiere. Sono 3.000 in meno i lavoratori ricercati rispetto al mese precedente, 15.000 se confrontati con un anno fa. Negative anche le costruzioni. Si conferma elevato il mismatch tra domanda e offerta. Sono difficili da reperire il 38,3% dei lavoratori ricercati, difficoltà riconducibile prevalentemente alla mancanza di candidati. L'industria nel suo complesso è alla ricerca di 99.000 profili professionali, di cui 66.000 da impiegare nel manifatturiero e 33.000 nelle costruzioni. Le maggiori opportunità di lavoro nel manifatturiero sono offerte dalle imprese della meccatronica, seguite da quelle metallurgiche e dei prodotti in metallo, quindi da imprese alimentari, bevande e tabacco. Ben più elevate le occasioni di lavoro offerte dal settore dei servizi, con 345.000 ingressi programmati. Grazie.